Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video, oggi voglio prevedere la mia completa collezione di accendini Allora, questo è un Ognu Entry, l'ho comprato da pochissimo, con i teschi e con la ganja E' a fiammossidrica, molto carino, costato 3 euro Poi ne ho uno, la Bic, questo qua della Flaminer che mi si è rotto Questo 3 euro, ma non funziona più, questo qua non funziona quasi più Questi qua sono 4 accendini che fanno colori differenti Questo lo fa verde, poi c'era quello che lo faceva giallo, quello che lo faceva rosso e quello che lo faceva blu Questo è un accendino tutto in metallo della Flaminer Questo non lo portavo io nel chiodo, nel giumbotto chiodo Questo l'ho comprato da ora e gli ho messo l'inserto, quello là a gas Perché mi porterò questo, forse Poi vedo Questo l'ho comprato ora Ed è un accendino a benzina normale, proprio normale Qua non ti può mettere l'inserto a gas perché è troppo grande Poi ho due zippo originali, uno normale tutto graffiato e uno tutto graffiato con lo coso Harley Davidson Questo costato 28 euro e questo 48 euro Va bene ragazzi Questi sono tutti i miei accendini Spero che vi piacciono, sono un bel po' Per uno che non fuma e che se li tiene per sparare i petaldi a capodanno Tipo questo, lo uso per sparare i petaldi a capodanno Questo ancora funziona E usavo anche questo, questo l'ho rovinato tutto E li tiene nello zip, nel chiodo, nel giubbotto iodo Mi servono per questo Così io non fumo Però quando mi chiedono per esempio di fumare Io, le ragazze vengono e mi chiedono di fumare Io mostro un bel accendino come questo O uno zippo o uno di questi qua Anche questo Questo ho ricevuto complimenti da una ragazza Oppure mi posso portare anche questo Non lo so, poi vedrò Quando sarà il periodo di chiodo Va bene ragazzi, questo è tutto Iscrivetevi al canale Guardatevi gli altri video E vi parlo di tantissime altre cose Ci vediamo al prossimo video A presto